amici della lepre group amici della serie a team bentornati alla rubrica sul calcio e allora incredibile quello che è successo nella giornata numero 28 della serie a intanto mancano dieci giornate alla fine del campionato e noi della lepre group seguiremo tutte le partite che da oggi in poi mancano fino alla fine del campionato grandissime emozioni a cominciare dall'ultima partita della giornata cioè roma napoli dove gli azzurri vincono in trasferta contro la roma e lo dobbiamo dire ancora una volta così come domenica scorsa abbiamo fatto i complimenti a gattuso li facciamo anche oggi perché gattuso porta a casa un'altra vittoria in trasferta quindi domenica scorsa il napoli ha vinto contro il milan per 1 a 0 domenica sera ha vinto contro la roma per 2 a 0 ancora in trasferta quindi due vittorie consecutive in trasferta per gli uomini di gattuso quindi ottimo napoli che grazie a queste due vittorie risale in classifica è sempre quinto in classifica ma è a meno due dall'atalanta e a meno due punti dalla juventus quindi c'è tutto il tempo per arrivare al quarto posto il napoli a questo punto purtroppo non ha impegni europei e quindi può concentrarsi su questo quarto posto in classifica chissà se alla fine potrà festeggiare non può festeggiare la juventus che incredibilmente allo stadium nella domenica pomeriggio cade contro il benevento la squadra di pippo inzaki gioca benissimo riparte in contropiede e grazie però ad uno svarione difensivo incredibile riesce a segnare con gaich tre punti storici per il benevento per gli uomini di pippo inzaki che grazie a questa vittoria guadagnano tre punti fondamentali in chiave in chiave salvezza naturalmente dobbiamo dire che la capolista non ha giocato inter sassuolo infatti non si è disputata per via del covid quattro giocatori dell'inter erano positivi anzi sono positivi ancora al covid e quindi per questo la lega ha deciso di rinviare questa partita il milan invece nel pomeriggio aveva vinto non senza soffrire in trasferta contro la fiorentina quindi se l'inter si avvia così come lo abbiamo già detto sul canale della lepre group a vincere uno scudetto il milan si conferma come seconda forza del campionato l'atalanta si conferma terza forza del campionato insieme alla juventus sì perché gli eurobici hanno vinto per 2 a 0 in trasferta contro l'ottimo sempre beruna di juic che gioca benissimo che però chiaramente non è ancora pronto per fare il salto di qualità e puntare ad una storica qualificazione in in europa league gasperini quindi vince ancora una volta in trasferta e si conferma al pari della juventus come terza forza del campionato però a questo punto visto che il napoli abbattuto la roma in trasferta è proprio la roma che a questo punto vede svanire le quali per le possibilità per la qualificazione alla prossima champions league infatti la classifica recita così inter prima posizione milan secondo juventus ed atalanta in terza posizione a 55 punti e poi grazie alla vittoria degli azzurri contro la roma proprio gli azzurri di gattuso si portano a 53 punti quindi a meno 2 dalla juventus e dall'atalanta la roma rimane a 50 e poi un po più giù c'è la c'era lazio che nel pomeriggio della domenica aveva vinto con l'udinese sempre in trasferta per 1 a 0 però ci sembra che la lazio sia fuori dai giochi per la qualificazione al quarto posto c'era arrivo al quarto posto e quindi la prossima qualificazione alla champions league e noi naturalmente seguiremo ancora il campionato sui canali della lepre group con un occhio di riguardo a questo napoli che nelle ultime settimane sta facendo davvero bene in campionato e vuole la prossima champions league massimiliano al dio per la lepre group se il video ti è piaciuto lascia un piace iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato